Napoli vive è un motore di ricerca innovativo carico di potenzialità caratterizzato da supporto audio mappa interattiva e supporto per i formati video naturalmente è partner di google come sappiamo il motore di ricerca utilizzato dall 80 per cento dei navigatori italiani punto di riferimento per la ricerca sul web digitiamo adesso locali napoli su google e poi clicchiamo cerca napoli vive si posizionerà sempre in prima pagina tra le prime posizioni o in alto a destra nella sezione suggerimenti la dicitura del risultato cambierà a seconda delle parole chiavi messe nella barra di ricerca ecco alcuni esempi napoli vive diventerà di conseguenza il sito più visitato di napoli garantendo il 100 per cento di visibilità alle vostre attività andiamo a scoprire napoli vive e le sue caratteristiche benvenuti nel nuovo motore di ricerca audio guidato con mappa interattiva dedicato interamente alla città di napoli adesso scopriamo napoli vive nella prima pagina troviamo due categorie a sinistra movida e gastronomia napoletana a destra il calendario dedicato agli eventi in città partiamo alla scoperta di napoli vive iniziando dalla voce movida e gastronomia cliccando di sopra scopriamo una seconda pagina dove troviamo una mappa interattiva della città di napoli suddivisa in nove zone scegliamo ad esempio la zona vomero clicchiamo ed entriamo nella mappa interattiva in questo caso sezione vomero in alto a sinistra vediamo il motore di ricerca basta inserire alcune parole chiavi e il sistema vi darà le risposte più attinenti alla vostra domanda trovando i locali più adatti alle vostre esigenze sotto il motore troviamo le categorie della sezione ristoranti discoteche pub e birrerie pizzerie e cucina straniera prendiamo ora in considerazione la funzione cerca ipotezziamo di essere alla ricerca di una steakhouse nella voce birreria in questo caso abbiamo trovato un risultato utile alla nostra ricerca solo passando il cursore sul risultato compaiono subito le prime informazioni utili del locale cliccando la mappa interattiva ci mostra dove si trova precisamente l'attività in basso a destra possiamo ampliare o restringere la visuale della mappa a sinistra troviamo il navigatore che ci permette di avere una panoramica completa della zona cliccando sul cursore lampeggiante che segnala la nostra attività conosciamo il locale grazie ad un formato video audio guidato vedrete il locale nella sua interezza e avrete tutte le informazioni necessarie dalla scelta del menu al numero di posti a sedere orari e contatti tutto quello che offrono e le loro specialità possiamo scegliere anche direttamente dalle varie categorie ipotizziamo di essere alla ricerca di una trattoria cliccando nella sezione ristoranti troverete elencate tutte le trattorie della zona inserite nel motore e ancora una volta cliccando sull'attività che vi interessa maggiormente si aprirà la mappa interattiva e avrete grazie al video audio guidato un'anteprima completa e chiara della vostra serata napoli vive e partner di google questo permette al motore di trovarsi in prima pagina sempre di conseguenza massima reperibilità e completo consenso dei navigatori sono una certezza grazie ad un team di grande esperienza e professionalità napoli vive garantisce facile navigabilità e massima visibilità alle attività passiamo ora alla sezione eventi accennata all'inizio del nostro percorso questa struttura è un vero e proprio calendario telematico basta cliccare sulla data di nostro interesse troverete elencati tutti gli eventi stabiliti per quel giorno scegliere quello di vostro interesse dove troverete tutte le informazioni generali trailer recensioni ed infine il collegamento con il sito internet ufficiale